L'età? Una settantina d'anni. Ok, allora state a Moscufi, in piazza Umberto. Va bene, ok, tenetelo allungato, non gli date da bene, non gli date nulla, è il tempo da arrivare, va bene? E' attivo da oggi anche in Abruzzo, per ora nelle province di Pescara e Chieti, dal 25 marzo in tutta la regione, il numero unico europeo di emergenza 112. La chiamata è gratuita, sia da telefonia fissa che mobile. In quest'ultimo caso è possibile effettuarla anche con un telefono senza SIM, bloccato o senza credito telefonico. Ma come funziona il servizio? Lo abbiamo chiesto ad Aurelio Soldano, direttore del Dipartimento 118 Pescara e Chieti. Qualsiasi numero dell'emergenza, che sia il 118, 113, 115, la chiamata di emergenza sarà riinterizzata verso una centrale unica di risposta, il NUE 112. L'operatore capirà quali saranno le esigenze del chiamante, sarà effettuata una prima geolocalizzazione e poi questa chiamata sarà inoltrata per competenza alle centrali operative. Quindi coordinamento e smistamento delle chiamate? Esattamente sì, di conseguenza tutte le centrali di secondo livello, cioè le centrali di emergenza sanitaria oppure quella di forza pubblica, rimarranno naturalmente tutte attive e saranno coordinate ancora meglio dal NUE. La centrale operativa Pescara e Chieti si trova al ridosso dell'aeroporto d'Abruzzo. Le telefonate vengono gestite da personale già formato. I nostri operatori, come avete visto, sono tutti operatori generalmente specializzati, infermieri, coordinati da un medico di centrale, che ogni giorno sono abituati a rispondere in modo opportuno e a capire quelle che sono poi le esigenze e le necessità sanitarie che un intervento può richiedere. E il primo giorno, come ricordava lei, avete già cominciato a ricevere le prime chiamate? Assolutamente sì, ci saranno poi una serie di fasce orarie in base all'operatore telefonico. Teoricamente entro stasera tutti gli operatori telefonici, ribadisco per le province di Pescara e Chieti, saranno poi shiftati verso il NUE 112. Pescara e Chieti